Allora, adesso andiamo a scoprire i nostri figli che cantiamo, nome ad alta musica. Andrea, Andrea, Bartolo, 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 Cristian, Manuel, Daniela, Euglitzman, Pietro, Riccardo, Davies, Christopher, Simone. Ecco, allora, questa è la squadra di figli e di cucini, hanno fatto un torneo di stasera, torneo dei pulchi, domenica mattina saranno in alto torneo a San Marco, a Verona, faranno il campionato al 5 e il 27 inizierà la prima settimana di ottobre. Adesso vi dico anche i nomi dei livelli nuovi che fanno parte sempre di queste annate. abbiamo Campino di Cristian, Mattei Nola, Riscoli Francesco, Parra, Terine Di Carlo, Siav, Miglioranza Jose, Bianchi dietro, Mariani Sebastiana, Fasconini Thomas, Vestandolo di Filippo, Vestandolo, e Girlanda, Alessandro, facciamo un applauso, questi sono nuovi, sono anche noi morti, speriamo che ci seguono tutti, se abbiamo tipiche descrizioni di questi ragazzi, abbiamo a nata 2009, 2010, 2011, 24 ragazzi, è un ottimo risultato, facciamo un applauso ancora, 2009, 2010, 2011, ourselves, un applauso ancora, ageemi amità, люди potrebbero reglicahistoria e precedenti a s registerina in casa, dal passiamo tavallae arieri delle tolle posti in No